gentili telespettatori buona giornata l'istalia studia un piano b c'è un piano b sulle ong clandestini migranti le regole fatte dal viminale dal governo meloni quelle regole che le ong non avrebbero rispettato e pertanto avrebbero poi avuto sequestrate tutte le navi con la prima ong che è arrivata queste regole non hanno funzionato nel senso che la ong ha rispettato tutte le regole ha fatto sbarcare tutti i migranti e adesso riparte tranquillamente un autogol perché in quelle regole c'è lo sbarco sempre comunque il porto viene sempre assegnato quindi il porto viene sempre assegnato e adesso le ong rispettano tutte le regole perché hanno capito o rispettiamo le regole sbarchiamo meno migranti o non le rispettiamo ci sequestrano le navi il gioco è finito quindi forse quelle regole sono un autogol per quanto riguarda l'europa non sembrerebbe che ci sia nulla da poter fare perché realmente adesso c'è la sei mesi di presidenza svedese e la svezia ha detto fin quando saremo noi presidenti dell'europa per sei mesi non ci sarà nessun accordo sui migranti nessuna redistribuzione ma svedesi o non svedesi come diceva fantozzi faccio l'accento svedese buondi è lei fantozzi ecco a parte l'accento svedese ci sarà la presidenza di un altro paese ma realmente l'europa non accetterà mai e poi mai di ricevere automaticamente i clandestini che fa entrare l'italia anche l'italia se fosse al posto degli altri paesi direbbe la stessa identica cosa quindi fratelli di svezia praticamente in svezia governa un partito come quello di fratelli d'italia che in europa fanno parte dei conservatori dei conservatori dove la meloni e capo dicono noi non vogliamo nessuna redistribuzione quindi fratelli di svezia come i fratelli d'italia in ruoli differenti direbbero esattamente la stessa cosa pertanto il decreto con le nuove regole non funziona sembrerebbe poi vedremo i nuovi arrivi l'europa non gliene può fregà de meno come è normale che sia ci sarebbe veramente da stupirsi se l'europa fosse interessata a redistribuire clandestini che fa entrare l'italia allora il superamento del devastante accordo di dublino rimane una lontana chimera e il patto sull'asilo e immigrazione un mezzo bidone per il nostro paese il governo meloni punta almeno in parte all'action plan sul mediterraneo centrale di 20 punti annunciato dalla commissione dell'unione europea in novembre ma se bruxelles continuasse a partorire topolini a fare melino strizzare l'occhio alle ong l'italia farà da sola beh altro che le ong chiedono di ritirare il decreto andrebbe rafforzato perché non si tratta solo dei 12 mila migranti sbarcati da noi ma dell'effetto calamita il pull factor perché tra i 105 mila sbarcati lo scorso anno quelli arrivati con le ong sono 12 mila però non è il punto i 12 mila su 105 mila il fatto è che la presenza delle ong è un pull factor un polo di attrazione un fattore di partenze vi ricordate salvini quando aveva fermato le ong non c'era quasi più nessuno che partiva riduzione delle partenze del 75 per cento riduzione degli sbarchi del 75 per cento quindi attenzione riduzione delle partenze del 75 per cento avendo fermato il 12 per cento delle ong vuol dire che come hanno detto in tanti che le ong sono un fattore di attrazione quando sanno i migranti che ci sono le ong in mezzo al mare partono più fiduciosi quando non ci sono le ong non partono questa è questa è la realtà è così dice faremo da soli come la spagna con il marocco è sì l'italia dovrà fare da solo qualcuno ieri commentava e ma i soldi per andare a ungere le ruote in libia dove li troviamo e non è che ce ne vogliono come una finanziaria guardate che la finanziaria è stata da 35 miliardi basta andare con un miliardo in mano un miliardo di euro alle autorità libiche cambiano da così a così immediatamente quando gli sventoli il miliardo di euro immediatamente bloccheranno le partenze così in un battibaleno è solo questione di ungere le ruote gli ingranaggi è pecunia est imago e comunque si terrà il 9 10 febbraio un ennesimo vertice europeo che si occuperà di immigrazione il governo punta ad ottenere risultati concreti che non otterrà mai nonostante gli svedesi abbiano detto con noi i prossimi sei mesi quello potete scordare qualunque tipo di accordo ecco pertanto quello che rimane adesso all'italia da fare è agire da soli quindi tunisia egitto libia andare a parlare direttamente con i soldi in mano perché se vai a parlare senza soldi ma neanche t'ascoltano guardate abbiamo altro da fare non ci fate perdere tempo quindi la meloni con i soldi che ci saranno nel cassetto nei prossimi mesi anzi due miliardi lei e giorgetti li hanno tenuti già da parte prenderanno dei soldi metaforicamente ma poi bisogna mandarli e li andranno lì dicendo allora ci fermate queste partenze vi diamo questi soldi ma dovete fermare le partenze e coi soldi si compra tutto si comprano governi si passano l'estate si passano gli inverni quella era una canzone di giovanotti ecco questo è il punto il piano b dopo che le regole per l'ONG non funzionano dopo che l'europa all'europa non interessa nulla rimane solo il piano b fare da soli andare in nord africa con i soldi in mano e dire allora fermiamo sti sbarchi vi do questi soldi sono sufficienti ecco questa è questo è il piano b quel famoso blocco navale il blocco navale non è nient'altro che andare in libia e dire ci mettiamo d'accordo ti do dei soldi tu blocca gli sbarchi le partenze ma ti aiuto anch'io con un blocco navale lo facciamo insieme tu e noi voi e noi blocchiamo le partenze voi sulla costa e noi in mare e questo è il blocco navale consiste nel fare un accordo con i paesi col paese o con i paesi di partenza arrivederci a tutti e grazie 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 grazie